Salve amici appassionati di Football Manager, qui come come sempre c'è il Mike94 e ovviamente Football Manager Italia Siamo qui nel Football Manager 2018 per continuare la carriera col grandissimo Napoli del mitico Walter Mazzarri e oggi andremo a vedere la partita con la Juventus e in più andremo a parlare della Rosa Perché andiamo a parlare oggi della Rosa? Perché come avete potuto ben leggere dal titolo questo sarà il penultimo episodio di questa carriera Diciamo che ho visto che non a tutti piace e quindi ho deciso di fare questo video dove andremo a vedere la partita con la Juventus che appunto dovevo per forza mostrarvi, in più andremo a parlare della Rosa in quanto farò da solo il mercato di gennaio e poi alla fine concluderò praticamente io il campionato semmai facendo un video finale dove appunto vi farò vedere qualche partita o comunque dove vi spiegherò come sono andate le cose Questo perché? Perché ho visto che comunque questa carriera non vi fa impazzire Però la voglio concludere per quei ragazzi che l'hanno iniziata a vedere e comunque vogliono appunto capire come va a finire questo anno Ci tengo perché comunque voglio accontentare i ragazzi che non amano questa carriera ma voglio anche accontentare i ragazzi che l'hanno seguita con costanza e che quindi vogliono sapere il finale Mi sembra comunque brutto lasciare una serie in sospeso e come vi ho sempre detto non amo le cose fatte a metà quindi la concluderò molto velocemente perché praticamente giocherò da solo però insomma la concluderemo ugualmente Detto ciò direi di andare subito a bomba a vedere la partita contro la Juve giochiamo praticamente con la titolarissima anche se Sepe si è fatto male siamo secondi a meno 2 dalla Juventus questa sarà molto molto ostica come partita perché noi stiamo facendo molto molto bene da come avete potuto ben vedere però anche la Juve non si ferma è un treno a 30 punti veramente è infermabile a 31 punti vabbè no adesso col possibile pareggio con noi quindi non ha ancora perso se non sbaglio nemmeno noi però abbiamo fatto un pareggio in più quindi sarà ostica questa partita noi come sempre ce la metteremo tutta siamo al San Paolo quindi sicuramente abbiamo un uomo in più e infatti subito Cavani cerca il gol abbiamo abbattuto addirittura il Liverpool non me lo aspettavo soprattutto perché è arrivato il gol di Cavani al 93esimo veramente una cosa assurda però insomma stiamo facendo abbastanza bene la tattica che vi ho mostrato funziona abbastanza soprattutto con i centrocampisti a 3 gira abbastanza bene quindi semmai ve la consiglio soprattutto se non avete una squadra fortissima volete provare la difesa a 3 e soprattutto vi volete difendere e cercare di vincere con poco possesso palla ma comunque con molto molto cinismo noi là in attacco siamo messi molto bene e proprio per questo dopo voglio parlare della Rosa perché tanto alla fine il mercato è quello che più ci diverte e quindi farvi vedere altre partite non so quanto senza abbio intanto arriva il gol di Quadrato che ci spezza un po' le gambe veramente è un peccato perché poi la lotta per lo scudetto si farà sempre più difficile perché ragazzi ovviamente io farò di tutto per provare a vincere ma certo se la Juve non si ferma poco ci posso fare sinceramente intanto c'è anche Berami che sta morendo io non volevo sprecare subito questo cambio ma prima che mi schiatta in campo mettiamoci Gokaniller che comunque ci potrà dare sicuramente una grossa mano si era un po' ripreso per Ammi ma vabbè anche Amsic è stanco anche perché stanno giocando molte partite una dietro l'altra attacca ancora la Juve con Dacra scossa costa al centro parata di Rosati purtroppo anche l'infortunio di Sepe ci ha un po' uccisi perché Rosati è un portiere diciamo da Serie B ragazzi non di certo da Napoli però vabbè si fa quel che si può con quel che sia insomma mi aspetto uno spettacolo di gran lunga migliore sì sarebbe già buono un pareggio sinceramente sarei molto contento di una zappata di Insigno o di Cavani insomma qualcuno che ci possa portare almeno un punto e soprattutto togliere i due punti alla Juve che insomma andrebbe poi di parecchio avanti anche se ovviamente il campionato è ancora lungo intanto qui Rosati fa un lancio al bacio mi ricorda il vecchio Pirlo c'è Bernardeschi la passa a quadrato quadrato sulla destra ancora la Juve che attacca con quadrato bravo Zuniga mamma mia Camillone che si è appena credo svincolato comunque è stato ceduto dal Napoli beh anche per Zuniga è una situazione molto strana perché si diceva che il Watford lo doveva riscattare e boh è molto strana come situazione non ho capito bene alla fine chi gli ha pagato lo stipendio però vabbè arriva un golasso di Masui di 2-0 ragazzi fino ad adesso abbiamo incontrato squadre abbastanza abbordabili e c'è stato molto più facile vincere ma qui la Juve è troppo 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 forte proprio per questo voglio parlare del mercato di gennaio perché dovremmo fare un lavoro certosino certo pure il Milan non ha mai perso porca miseria e vabbè sicuramente ci riprenderemo un po' come è successo anche nel Napoli della realtà che ha perso contro la Juve anche se la partita non è ancora finita c'è Insigne che sta diventando uno specialista dei colpi di testa a questo punto cerchiamo di attaccare un po' di più mettiamo standard anche perché molto probabilmente la Juve un po' si chiuderà credo non lo so però ci ha schiacciato assolutamente questo gol è importante se riuscissimo a trovare il secondo sarebbe oro colato io a questo punto voglio fare una mega pazzia e proviamo dis questo mettiamoci il pocio loco mettiamoci Insigne qui e Zemali regista no vabbè possiamo fare questo insomma che healer già lo può fare di più la Vezzi può giocare un po' più a destra no praticamente è lo stesso però vabbè si adatterà anche Maggio è stanco praticamente si sta stancando sempre posso mettere Armero metto Armero mettiamo Armero va che più o meno sta imparando a giocare come terzino a destra in teoria potremmo anche pensare di comprare un terzino perché lì pecchiamo un po' anche in porta certo non siamo messi benissimo proviamo a chiedere di più alla squadra speriamo in un miracolo dell'ultimo secondo anche se la vedo dura mettiamo offensiva giustamente cambiando tattica non c'era più lo standard c'è Buffon c'è Kellini c'è Benazia Benazia per quadrato quadrato sulla destra c'è Pjanic Pjanic per Bernardeschi Bernardeschi c'è il Pipiteguain c'è Marchisio ci sono io che ho dovuto interrompere per uno starnuto c'è Marione Manzuchic che sta laggando c'è perché si sta laggando ora Manzuchic Manzuchic tiene palla c'è De Sciglio Manzuchic ancora ragazzi dai Marchisio Pjanic Pjanic bravo Cavani bravo il Matadoro meglio bravo Pjanic che ci ha regalato un pallone d'oro dai Matador è troppo defilato mi aspettavo un'azione non troppo pericolosa peccato io provo a chiedere un po' di più se è possibile no a questo punto proviamo il tutto per tutto ripeto sarebbe un pareggio fantastico anche se adesso attacca la Juve con quadrato siamo ugualmente schiacciati nonostante in teoria dovremmo essere tutti in attacco e Zunica qua viene espulso questo è un bel danno un bel danno Zunica peccato mi sa che finirà così la partita io ho anche finito i cambi potrei 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 fare un azzardone ma sono gli ultimi sei minuti possiamo mettere Armero qua oi Armero qua il pocio loco qui Insigne non lo può proprio fare e mettiamo Insigne qui trequartista mettiamo ma mettiamolo qua falso nove proprio offensivissimi sti cazzi vediamo un po' che cavolo succede certo se riusciamo a trovare la zampata vincente all'ultimo secondo sarebbe un miracolo divino ma la partita sta finendo c'è Giorgione Chiellini che la passa al centro c'è Victor Ruiz c'è Armero Daie di contropiede Armero Armero per Insigne non ci arriva c'è il Matador Daie Matador Daie Mano Matador Matador perché mi fa queste cose cioè fa fa gol assurdi mi segna il 93esimo contro il Liverpool è qui davanti alla porta quasi solo sbaglia peccato sarebbe stato veramente un pareggio miracoloso intanto vabbè è finita peccato veramente peccato veramente arriva la prima sconfitta nelle gare ufficiali brucia un po' soprattutto perché contro la Juventus che adesso ci va a più 5 però vabbè c'è ancora tutto un campionato avanti sperando che però prima o poi la Juve si fermi perché insomma 11 partite 11 vittorie cioè se va a più di 100 punti praticamente noi non possiamo farci nulla però vabbè vedremo un po' di fare qualche miracolo allora ragazzi per quanto riguarda il mercato di gennaio io ovviamente non voglio rivoluzionare la rosa perché se no concludere questa serie con un'altra squadra praticamente non ha senso io semmai voglio fare massimo 4-5 colpi per cercare di fare un girone di ritorno alla grande e provare a vincere qualcosa molto dipende anche dai soldi che ci daranno budget assurienti 208 milioni what the fuck non ci avevo proprio fatto caso ebbè ragazzi se ci datti sti soldi a questo punto possiamo fare veramente dei miracoli non lo so vabbè mi ha spiazzato sta cosa non ci avevo proprio fatto caso andando avanti non ci ho fatto caso vabbè meglio per noi comunque grande notizia ragazzi veramente possiamo fare un grandissimo mercato comunque ragazzi considerando che abbiamo tutti questi soldi io direi che un portiere ci sta come il pane Luigi Sepe praticamente è abbastanza valido sta giocando sia lui che Rosati però insomma potrebbe starci anche un portiere un po' più forte è da valutare insomma se riusciamo a trovare uno veramente valido prendiamo tipo Donnarumma in prestito come sto vedendo in molte carriere ci potrebbe stare giusto per rafforzare anche un po' quel reparto in difesa centrale raga pure qui secondo me uno fra insomma Gamberino più che altro Gamberino e Campagnaro uno fra questi due deve andare via per far spazio è un difensore veramente forte da affiancare poi a Victor Ruiz e a Britos o Fernandez insomma perché ovviamente anche il reparto difensivo deve essere rafforzato oltre che il portiere perché forse uno dei reparti più scarsi di questa squadra quindi assolutamente secondo me un colpo in difesa va fatto ovviamente fatemi sapere anche voi cosa fareste per migliorare questa squadra considerando 4-5 colpi quindi un portiere un difensore centrale ci sta come il pane cedendo semmai uno fra Gamberino e Campagnaro sperando che uno dei due abbia mercato o mal che vada lo buttiamo fuori insomma o l'escissione o lo mettiamo in under 20 non mi creo il problema anche perché lo stipendio non è proprio altissimo e soprattutto anche vendendolo non è chissà che cosa ci faremmo per quanto riguarda i terzini ragazzi assolutamente ci serve come il pane almeno un terzino almeno uno ci serve veramente tantissimo considerando anche che Maggio in calo se dovessi scegliere fra terzino destro e terzino sinistro assolutamente terzino destro visto che a sinistra abbiamo il mondo abbiamo Zuniga Armero Vitale e uno fra Armero e Vitale può anche andar via insomma se non tutte e due potremmo anche scegliere di fare due colpi anzi eh sì due colpi sui terzini quindi un difensore due terzini e un portiere e poi assolutamente serve un centrocampista centrale veramente fortissimo da affiancare ad Amsik Zemali e Berami in teoria ci troveremmo poi anche con i cinque colpi perché poi ragazzi in attacco ci abbiamo Insigne ci abbiamo Quagliarella ci abbiamo Cavani ci abbiamo il Pocioloco ehm ci abbiamo vabbè ci abbiamo Vargas ci abbiamo vabbè Pandev non lo consideriamo quindi secondo me anche Datolo e quindi sicuramente secondo me serve un altro centrocampista che possa dare un manforte a Marechiaro quindi in teoria potrebbe essere anche un centrocampista di quantità veramente molto molto forte perché come incontrista Valon Berami tanto tanto ci può stare Zemali mi piace un casino lo dico sempre tanto che anche nella realtà ha segnato però come centrocampista di quantità non è proprio il top considerando l'accelerazione 9 l'integrità fisica vabbè quindi potremmo fare questo cambio semmai cedendo o Gargano a Malincuore o anche qualcun altro in teoria c'è anche il Caduri con la quale ci potremmo fare una fracca di soldi e il Caduri che però sarebbe il sostituto di Amsic quindi anche in quel caso poi ci servirebbe un vice mare chiaro perché Gargano in teoria è la riserva di Berami Hiller in teoria è la riserva di Zemali e Caduri in teoria è la riserva di Amsic quindi Hiller potrebbe giocare anche come incontrista quindi potremmo senza troppi problemi vendere Gargano che vale 3 milioni e 8 secondo me prezzi un po' pompati soprattutto non guadagna niente vabbè buon per noi il budget c'è assolutamente se sono 208 milioni veramente possiamo con 5 massimo 6 colpi fare un gran mercato ovviamente non lo farò subito ragazzi perché sapete che in settimana c'ho la discussione della tesi ovviamente per andare avanti fare un mercato decente mi ci vuole un po' di tempo però vi prometto lo sapete che lo faccio vi prometto di concludere questa carriera quindi mi raccomando fatemi sapere voi quali reparti migliorereste e quanti giocatori più che altro prendereste 6-4 6-5 6-6 6-3 6-0 e fatemi sapere appunto chi anche vendereste tipo Armero Vitale Gargano anche se mi dispiacerebbe però raga è forse il centrocampista più scarso che abbiamo uno fra Campagnare e Gamberini e poi ripeto secondo me in attacco siamo messi più che bene Insigne c'ha la riserva che è Lavezzi Cavani Quagliarella anche se stanno avendo poco spazio quindi diciamo che il reparto più forte andando a non toccare secondo me è l'attacco centrocampo e difesa qualche cosina ci manca soprattutto in difesa quindi ragazzi detto ciò mi raccomando a bomba con i consigli mettete mi piace al video condividete il video se vi pare mettete mi piace alla pagina facebook e come sempre un saluto da Mike94 ovviamente anche da Football Manager Italia ciao ragazzi e grazie per tutto ci vediamo venerdì con ovviamente l'United of Manchester ciao ciao